Professor Cacciari, vedevo che aveva la testa china ormai privo di ogni speranza rispetto a una democrazia degna di questo nome? Quello che è avvenuto è chiaramente gravissimo, tuttavia va collocato in una situazione nazionale ed europea che è di una gravità ai noi ben maggiore, quindi adesso parliamo di questo, tanti auguri all'onorevole Colpito, aggredito e adesso parliamo di quello che sta succedendo in Europa e anche in Italia, Marco questo episodio a memoria un pugno nello sterno che è un gesto molto grave, molto pericoloso soprattutto, a memoria lo ricordi? È un gesto professionale, bisogna sapere dove colpire per provocare quel danno, poi pare che l'abbiano anche preso a calci quando era a terra, sì è molto grave e secondo me segnala un problema dentro la maggioranza, non è soltanto una questione 5 Stelle opposizione, 5 Stelle molto votati al Sud contro l'autonomia differenziata, perché nella giornata di oggi è successo questo, il Presidente della Regione Calabria, Occhiuto, Forza Italia se non sbaglio, centro-destra ma diciamo di derivazione Forza Italia non Lega, ha detto blocchiamo, adesso siamo più forti, insomma per quelli pochi punticini decimali che hanno preso in più dell'altra volta, siamo forti e quindi adesso cerchiamo di bloccare l'autonomia differenziata e Tajani gli ha risposto nell'assemblea dei forzisti a lui, a quelli che dicevano che aveva ragione lui, stiamo attenti perché Salvini è già molto in difficoltà, se gli facciamo saltare l'autonomia differenziata quella è capace di fare il matto, cioè temono un papete bis, non succederà, non glielo lasceranno più fare, un altro papete eccetera, però questo dell'autonomia differenziata è uno di quei nodi che erano stati accantonati fino alle elezioni europee in attesa di riprendere, adesso a poco a poco dovranno riprendere tutte le questioni ovviamente che sono sul Tavo, una riforma importante quella, è una riforma tra l'altro su cui si regge lo scambio, Lega, Autonomia differenziata, Fratelli d'Italia, Premierato, Forza Italia, Giustizia, chiamiamola così, e quindi se ne salta uno saltano gli altri e quindi è una di quelle contraddizioni che verranno per forza a esplodere e che quindi toccherà alla Meloni dimostrare le sue doti di Premier per risolvere questa contraddizione perché certamente sono voti quelli dell'autonomia differenziata e potrebbero essere voti che invece che fermarsi su Forza Italia scappando dalla Lega vanno alle forze di opposizione. Ricordiamolo che oggi la Camera si votava proprio per questa riforma, l'articolo 5 è proprio quella sul premierato, cioè l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, però al di là di questo, un pugno nello sterno così può essere pericoloso per la vita, episodi così non se ne sono visti la Camera, poi c'è il deputato che l'ultimo dell'anno spara e rischia di ammazzare una persona, è una destra un po' violentuccia? Guardi, in Parlamento abbiamo visto di tutti, ci sono stato quattro legislature, ho visto risse anche più violente di quella di oggi che sono sempre sgradevoli da vedere, che sono da condannare ovviamente, bisogna fare gli auguri, è successo, è successo altre volte. Il problema, la violenza in Parlamento è stata portata altre volte, addirittura sono stati portati dei condannati in Parlamento, ricordiamoci che è stato portato Tony Negri in Parlamento, sono stati portati persone che erano stati condannati per atti di terrorismo gravissimi, quindi il Parlamento è lo specchio del Paese e c'è anche la rissa, però dietro la rissa a volte c'è anche, ci sono una serie di componenti, c'è la componente segrabile, poi c'è lo scontro politico, la passione, c'è il coinvolgimento, c'è un po' la sceneggiata, il parlamentare ha fatto un po' il pronto soccorso, il fatto che sia il pronto soccorso dobbiamo essere tutti al suo fianco perché è gravissimo quello che è accaduto, non toglie che lui ha fatto una sceneggiata, è arrivata con la bandiera davanti a un ministro e gliel'ha aperta in faccia, è una roba che il regolamento prevede che non si può fare, quindi lui ha violato il regolamento e la conseguenza non giustifica e sarebbe un eccesso di reazione assolutamente, però ciò non toglie che lui ha fatto una sceneggiata. Anche perché Calderoli era tranquillissimo, ha capito benissimo. No, 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 indietreggiava, si è avvenuto. Grazie. Grazie. Non voleva prendere in mano il tricolore perché loro col tricolore notoriamente si puliscono il culo. Arriviamo al merito. Il merito dice che c'è un nervosismo all'interno dei 5 Stelle che non c'è nella maggioranza. Ricordiamoci che la maggioranza, unico caso nel mondo occidentale, aumenta del 10% i suoi punti passando dal 44 al 48% in un'elezione intermedia. Cioè è una cosa che finirà nei libri di politologia il risultato elettorale di queste europee in Italia. L'unico governo che vince le elezioni, i 5 Stelle si squagliano come ne va al sole. Adesso siamo in attesa delle riflessioni di Marco, intelligentissime. Adesso doppio avanti le facciamo. Di Marco, su quanto sarà lenta e dolorosa la morte di 5 Stelle. Il problema è che stanno per scomparire i 5 Stelle. Allora uno dei 5 Stelle dice come faccio a farmi notare come c'è bombo. Mi si nota di più se ci vado o se non ci vado. E quindi ci vado col tricolore. C'è nervosismo, c'è confusione. Ma la confusione sta nell'opposizione. Poi se qualche cretino di maggioranza esagera e dà un colpo peraltro proibito, anche nelle arti marziali sarebbe proibito un colpo che procura una conseguenza del genere. Poi sarà compito del Presidente della Camera e degli organismi deputati di sanzionare severamente una cosa del genere. Una cosa è condannare l'episodio e altra cosa è adesso dare la colpa all'autonomia. L'autonomia, questa maggioranza, si è presentata alle elezioni, Marco. Ha presentato un programma e ha detto se vi piace questo programma votatemi. Ha vinto le elezioni e lì c'è scritto che bisogna fare. L'elezione diretta del prete, che bisogna fare l'autonomia e bisogna fare la separazione delle carriere. E ora piacciono o non piacciono i 5 Stelle e bisogna farli. Ma non è i 5 Stelle, oggi è intervenuto Occhiuto, capisci? C'è un problema al sud degli amministratori del sud che sanno bene il danno che può fare quella riforma lì ai loro elettori. È una grande opportunità per il sud. Perché finalmente il sud viene svincolato da un meccanismo di assistenzialismo che lo portava a non andare avanti. Invece si deve confrontare con la progettualità dell'autonomia. Su questo i governatori del sud non sono d'accordo. Non sono d'accordo perché sono del PD. Occhiuto e di forzità. No, quelli che non sono d'accordo sono quelli del PD. Quelli che non sono d'accordo. Allora, ne parliamo. Parliamo di tutti. Occhiuto, c'è una questione anche interna. Io vorrei far vedere al professor Cacciari una cosa, del quale si parla, però abbiamo di vedere non tantissimo. Guardi questo numero, professor Cacciari. Guardi il numero. 49,6% sono coloro che sono andati a votare. Siamo scesi sotto la soglia del 50%. Qualcuno dice che si è rotto il patto sociale cittadino-istituzioni. Lei cosa dice al riguardo? Al sud hanno votato meno del 40%. In Sardegna il 37%. Un patto. Cosa si intende per patto? È chiaro che c'è una situazione per cui se il 50% e il 60% dei cittadini non vanno a votare, vuol dire che non trovano nell'offerta politica nulla di soddisfacente rispetto ai loro interessi e alle loro esigenze. È molto semplice. Vuol dire che c'è un'offerta politica del tutto inadeguata. Dopodiché le forze politiche se ne fottono, perché fanno finta di niente, non ho trovato un commento rispetto anche ai vincitori, Meloni, Schlein, abbiamo vinto. Non so, un leader politico che assiste a una diminuzione costante del numero di votanti, che non si ponga nemmeno il problema del significato che questa stensione di massa oggi assume in un paese come l'Italia. Perché stiamo parlando di l'Italia. Poi anche questo è un problema minimo rispetto a quello che è avvenuto in Europa, che forse prima o dopo ne parleremo. Allora Marco, il professor Cacciari dice che è un problema enorme. La politica però un pochino, sì, fammi a colpa, dice che dobbiamo cercare di, ma poi alla fine non se ne preoccupa tanto. Ci sono delle intercettazioni, addirittura, che hai pubblicato oggi, che dicono che meno vanno a votare meglio è. Il primo giorno fanno due o tre paroline dicendo questo grave problema, la disaffezione, il paese reale, bisogna tornare sui territori. Il giorno dopo fanno i conti con i voti, sempre meno, che prendono e se li dividono in percentuale e dicono abbiamo vinto. Non vanno mai a vedere i voti assoluti. Voti assoluti sono l'unica misura di una vittoria o di una sconfitta. La Schlein può rivendicare un aumento dei voti assoluti rispetto alle politiche dove ne avevano presi talmente pochi che stavolta, nonostante l'astensionismo, sono riusciti a prenderne un po' di più, anche perché è arrivata SEL, no, l'EU, come si chiamava l'EU, dentro al PD. La Meloni ne ha persi 700.000 e quindi ha vinto soltanto in percentuale, ma non in voti assoluti, perché ne aveva presi così tanti l'altra volta che adesso l'astensionismo in qualche modo le ha prodotto quel rimbalzo all'indietro per i numeri, cioè delle teste che sono andate a votare. Io l'ho chiamata, ma non da oggi, l'astensione programmata, perché ho l'impressione che i partiti, soprattutto quelli molto radicati, non solo non ritengano che l'astensione sia un problema, ma pensano che sia un'opportunità. Perché? E una salvezza. Perché se tu hai dei voti che, amministrando da anni, da decenni, certe regioni e certi comuni, ti arrivano in automatico con tutto il clientelismo che hai fatto, poi ogni tanto ci sono anche delle indagini che ci spiegano come fanno esattamente, ma insomma li conosciamo, no? Quando ci sono incrostazioni decennali, ventennali, trentennali, nella stessa zona, i voti arrivano da soli, perché c'è sempre qualcuno che ha avuto qualche parente assunto o che aspetta che gli assumano qualche parente o qualche amico, o che si creino posti di lavoro, in un certo modo, assunzioni facili, di solito sotto elezioni. Se vanno a votare quelli che invece... Un reddito di cittadinanza sotto elezioni per comprare un po' di consenso. Vedi, Bocchino, la differenza tra il reddito di cittadinanza e il clientelismo è che il reddito di cittadinanza è una misura di welfare che riguarda... sarebbe come dire che quando hanno introdotto le pensioni l'hanno fatto perché così i pensionati li votavano, è una sciocchezza. Il voto di scambio è quando io faccio un favore a te, non quando stanzio una misura per tutti i poveri. Senza il reddito di cittadinanza sono crollati perché è venuto meno il voto di scambio. Erano crollati anche quando l'hanno fatto. Nel 2019 l'avevano già fatto e sono crollati. Hanno dimezzato i voti, quindi non c'entra niente con il voto di scambio. Il voto di scambio è quando io do una cosa a te, facendoti passare davanti a tanti altri. Mentre il reddito di cittadinanza vale per tutti quelli che sono sotto una certa soglia Isee e che votano Fratelli d'Italia, PD, Forzità, tant'è che pure Berlusconi diceva che era d'accordo. Ma in ogni caso, tornando a quello che stavo dicendo, se va a votare l'elettore non controllato, cioè quello che non ha niente da chiedere e non ha avuto niente e quindi è libero e fluttua di elezioni in elezione premiando o punendo chi se lo merita, si creano le rivoluzioni. Pensa se il Sud decidesse di andare a votare tutto insieme. I capi bastone che si vendono i voti a 30, 40, 50 euro e il loro voto venduto non varrebbe più niente. Soltanto che al Sud, soprattutto al Sud, ma anche sempre di più al Nord, c'è l'idea che non voto così capiscono il segnale. Non lo capiscono. Si diventano i voti a tessi